Grazie, Elena. Prego. Allora, ti ho riportato alla Zimborska. Mi piace molto, un amore felice. E anche la mia preferita. Sì? Un amore felice. È normale, è serio, è utile. Puoi tenere il libro se vuoi? Sì, grazie. E poi ti ho portato quel libro di cui ti ho parlato. Non sempre ricordano della vicinelle. Questo però lo rivolgo indietro perché ci tengo e non si trova più. Certo. Grazie che ti sei ricordato. Allora, come stai? Hai ricominciato a scrivere? Franco mi ha detto che vuole pubblicare il tuo libro. Franco vuole solo che scriva il tuo. Ma va bene così, sai? Non fa niente. Si vede che le storie vere degli altri sono più belle di quelle che mi invento io. Allora, noi invece eravamo arrivati a... La prima volta che ho fatto DP. Ecco. DP. Doppia penetrazione. Giusto, giusto. Niente, bisogna che non mi facciano quell'ossarietto perché ho aperto colpi qua. Allora. Vado? Vai. Vai. Vai.